video ripresa in full hd con samsung multimedia cam e 10 ora stiamo andando contro sole facciamo un 360 così poi vediamo anche lo stabilizzatore come funziona giusto per informazione siamo molinetto di Cugiono da lontano non sono in granché vediamo da vicino come vengono dobbiamo avvicinarci un attimo messo a fuoco vediamo battiste sentanto phone Tecnologia humana. Ge女 típido мосf Kṛṣṇa. NeWe Típido preserving Linus Partners. Tecnologia humana. CecoARiffa borderually focused in moving listening to the iç blues track. 暴ala giùicieòr? Geek ты в OGs. She's not at all the game, but I need to film you. Well, here it is. Song song 05М2 račs. Grazie a tutti.